Sergio, è tutto il service audio, Luci, grazie davvero Seguiteci, se vi interessa il nostro modo di reinterpretare gli O2 Su Facebook o Instagram Grazie a voi per essere stati qui quest'azienda Buonanotte a tutti, ciao! Questo dobbiamo farlo insieme Uno, dos, tre, catorze Buonanotte a tutti Tutto il nostro canale no more Christos name as Jesus from the neck swettel達 into the desert swettel Algeria oh 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 Grazie a tutti 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 Facciamo salire anche Facciamo uscire dalla mega gabbia Danilo E vi ringraziamo davvero di essere stati qui questa sera Ripeto, è un privilegio poter cantare di nuovo Grazie a tutti Grazie mille